salve a tutti un saluto da greg 79 benvenuti e bentornati qui sul mio canale youtube allora siamo qua sempre su farmissimulator 22 sulla nuova off berkman allora come al solito vi chiedo un favore iscrivervi al canale attivare la campanella quella completa così non vi perdete video mettere un bel like per sostenere il canale condividere il video per far conoscere il canale anche i vostri amici se sono interessati in più in descrizione trovate il codice partner per console pc e per pc se volete ci sono anche dei link un po più più rapidi per alcuni tipi tipo ho lasciato principalmente il gioco e i season pass di qua di là e quello dei social quello del discord italian gaming vi ricordo che se fate se vi fa piacere sostenere anche non c'è non proprio questo canale ma me con con sull'altro canale quello viola se vi abbonate potete abbonarvi con amazon prime gratuito ci avete una volta al mese se collegate il vostro account twitch e se lo fate potete collegare il vostro discord con quello di twitch per avere la stanza per dove ci sono tutte le traduzioni che ho fatto non solo della off berg ma anche degli altri ok ho scoperto una cosa ho fatto veramente ho scoperto un po di cose intanto ho cambiato qui la zona di pesca invece di aumentare i cicli al mese cosa ho fatto invece di uno ho messo che me ne fa quattro così dopo praticamente poi un'altra cosa io avevo detto una stronzata la il video scorso perché ho detto praticamente mettiamo 24 cioè c'è uno 24 mettiamo tre giorni così dopo mi dura di più e sì ma il problema è che mettendo tre giorni si divide questo 24 in tre giorni però come vedete a novembre aveva funzionato è perché se guardate abbiamo novembre 1 praticamente il primo come se fosse il primo di novembre poi bisogna vedere dopo potrebbe venire il 15 e poi forse non so se viene il 30 oppure li separa un pochettino a metà dopo massimo vediamo ho lasciato di nuovo tre però praticamente qui adesso quando passa il giorno non saranno più 24 saranno 24 diviso 3 se voi mettete due giorni invece veniva diviso 12 per arrivare a 20 a questi cicli perché questi sono cicli al mese se voi mettete un giorno ve li fa in un giorno questi 24 se invece mettete due giorni ve li fa in due giorni mettendo tre ve li fa in tre adesso vi dico e che palle è impossibile che mai sarebbero tutte le notifiche aspetta intanto il tablet lo mettiamo silenzioso così non rompe le palle almeno un clic in meno l'orologio tanto gli ho cavato già di sé sento solo vibrare almeno così c'è solo il telefono che rompe le palle allora intanto vi dico il pesce come si prende perché mi sembrava che si poteva prendere tipo quando andate quando andate sotto le mele voi prendete dalla cassetta andate sotto spingete r infatti non so se la possiamo appoggiare qua sopra perché qua dentro non la appoggiate perché casca però forse in questa zona qui vediamo un po se la possiamo appoggiare qua almeno così e vaffangulo la cosa buona è che la potete perché in pratica dovete metterla in un punto e se guardate sopra nell'f1 appare il tasto r quindi voi andate piano piano e adesso aspetta c'era un punto che me l'aveva fatto apparire ecco vedete eccolo qui voi così con il tasto r sta riempiendo sì esatto vedete che sta riempiendo tanto poi te lo termina da solo vedi che li sta anche togliendo ok a posto e praticamente si fa così adesso ce ne facciamo portare allora questi dovrebbero dovrebbe contenere 25 a no non so perché massa ti segnala sempre 25 forse è il peso che ha messo lì per poterlo portare a mano è ma alla fine ci stanno 10 chili quindi vuol dire che ci stanno 10 in teoria il pesce come se pesasse quasi uno ogni chilo se non lo mettono lì noi qui abbiamo ancora altri 55 quindi ne posso prendere in teoria tre altri sei però uno non si riempie al massimo dovrebbe essere ancora qui e dopo vi faccio vedere quell'altra cosa che ho scoperto sì il negozio è qui perfetto però se me lo metti un pochettino più vicino invece rimettiamo la vabbè vediamo dove ce l'ha portato a un'altra cosa ho scoperto anche un'altra le barche vedete che che la trovate nel reparto veicoli dove io nel commento avevo scritto mezzi però vabbè qui c'è scritto veicoli vedete qui in alto trovate la barca quindi la trovate anche qui la barca se volete quindi la categoria c'era aveva proprio la sua che si trova nei veicoli perché in teoria la barca è un veicolo cioè se vogliamo dire tutta il rimorchio va bene però la barca è un veicolo perché tu ci vai dentro l'accendi e di conseguenza diventa un veicolo in teoria questo dovremmo trovarlo nelle scatole eccolo qua era buono se c'era quello lì ah beh te lo dice anche qui che ci vanno 10 kg 1 2 3 4 5 sì in teoria dovevo prenderne 6 però vabbè anche se quell'altra non si riempie quindi c'era il trucchettino per l'unica cosa che hanno messo un cosa talmente piccola che poi alcune volte te lo piglia alcune volte o forse dipende anche dall'altezza vediamo se deve essere eccolo qua forse dipende anche da come lo prendete non lo so però come vedete funziona tutto possiamo riempirla adesso l'unica cosa che devo andare a vedere vabbè che tanto questi che le possiamo portare pure a mano perché di che altro noi italiani ci scoccio sempre a fare un po' alcune volte alcune cose perché di cià ci metti troppo tempo diventa rompipalle qua di là però alla fin dei conti se tu si possono portare a mano uno dice anche se perdi un po' di tempo delle cariche tutte quante più avanti quando uno ci avrà più soldi per fare più veloce si può prendere pure l'autocaricante che devo provare a vedere se devo scaricare sempre anche l'altra mod oppure se è stata aggiornata già di suo per caricare anche la roba dell'hoffberg secondo me dipende da come lo prendi lo devi prendere molto più forse lo devi prendere molto più vicino devi avercelo più vicino a te non devi prenderlo da molto lontano perché se no dopo non ti appare la R perché forse dipende anche dalla distanza che c'hai tu che veramente andavano meglio girata dall'altra parte però dall'altra parte non riuscivo quasi mai perché così ce ne stanno ecco vedi così ce ne stanno di più però se me lo giri di qua sto coso non mi ricordo se c'è anche la velocità più bassa con questa c'era una volta una mod che potevi andare anche più piano no qui c'è la velocità normale c'è la velocità 2 perché c'era una volta una mod nel che forse poi vabbè che ci sia anche qui non mi ricordo se anche questa qui ce l'aveva praticamente c'aveva la mezza velocità che invece di andare più piano quando correvi andava più piano ti attivava alla velocità che andavi più piano che alcune volte è anche più comodo andare più piano se uno utilizza il pad no io dovrei mettere gli analogici del volante che quando sono a piedi mi posso muovere vedete che appena siete un po' più vicini ve lo da subito quindi dovete tenerli molto più vicini voglio provare a prenderlo direttamente dall'altra parte a vedere se lo fa lo stesso non è che così si può fare prima così e poi dopo vedete con la tastiera si ce l'ha fatto lo stesso però voglio provare a vedere se possiamo riempirlo anche in questo senso qua in teoria dovrei riempirlo anche così ecco vedete alcune volte vai un po' troppo veloce anche per quello che io l'avevo provato a mettere dentro forse è probabile che o l'avevo preso troppo lontano come avete visto che se lo prendete troppo lontano non funziona oppure non guardando lì è capitato che forse io non vedevo però ho fatto l'ultima volta la prova ho guardato ho visto che mi appariva un strano simbolo sono andato a vedere se era per caso il simbolo per aprire il coso lì la roba invece dopo andando più piano ho visto perché c'era di sicuro qualche cosa perché se mettevi spawn non serviva niente vedete questo qui abbiamo preso secondo me troppo lontano 5 kg ci sono quindi in teoria ecco vedi dovete essere molto vicini dovete andare molto vicini a abbassarvi ammazza da questo chissà grosso ok ah 6 kg alla fine e poi sarebbe forse 5 qualcosa lui per eccesso già te l'aumenta adesso qui dobbiamo andare a prendere dell'altro pesce però me ne sono accorto perché di solito se vedete il mouse c'ha il simbolino e la scritta bianca invece a me mi appariva una scritta azzurra quindi ho detto di sicuro sarà allora forse qualcos'altro dato che è azzurra ok perfetto qui abbiamo finito tutto andiamo a controllare qui qui d'acqua ce ne abbiamo ancora cibo ce ne abbiamo ancora che tanto poi ci abbiamo ancora un tot l'ho scaricato anche qua su qua dentro di cibo perché ce ne stavo nel cubota ce ne stanno mille quindi gli altri 200 stavano lì per adesso questo teniamo i sacconi tanto ok qui le uova come si vede stanno spawnando di sicuro mi sa che non posso sempre mettere quello lì cioè in teoria se voglio lo posso pure mettere quello lì che lo posso mettere più lontano non lo devo mettere in questa zona qui in pratica questo qui degli animali questa mod qua che ho io negli animali galline questo qui non conviene metterlo vicino lo possiamo mettere in un'altra zona che dopo ti spawna la roba lì che se volete la potete mettere anche direttamente in vendita da lì però vabbè noi abbiamo anche questo qui le posso caricare anche qua le uova e poi dopo oppure c'è anche il pick up che ce ne stanno anche di più a dire la verità quindi però per adesso non è ancora pieno voglio vedere quando si riempie allora sono di 50 pezzi ognuno quindi abbiamo fatto sono 1 2 3 4 5 probabilmente secondo me c'è un altro pezzo qui forse perché pensandoci che qui l'erba arriva qua proviamo andare a vedere un attimo quella cosa degli animali 0 pezzi però bisogna qui la riproduzione è partita adesso sarà un po' lentina perché per passare un mese adesso ci vuole più tempo anzi qualcuno mi sa che già cresce si erano già cresciuti 20 pulcini perché ho fatto passare un po' di giorni quindi adesso abbiamo anche 20 pulcini come vedete ok sono già arrivato al massimo qui dell'off bergam mi sembrava che forse quando cambiano è probabile questi possono quindi essere venduti allora i pulcini i piccoli pulcini di polo possono diventare poli adulti possono essere utilizzati per depor cioè venduti o deporre le uova non so se poi diventano anche galli non lo so perché non mi ricordo io non ci ho giocato proprio molto all'off bergam quest'anno perché non mi piacevano più che altro un po' come erano fatte adesso stanno aggiungendo più che altro sono proprio uscite anche pochissime mappe che infatti come vedete ero tornato a giocare alla mappa standard io quindi quella della hotline mi piaceva tutte le produzioni cose così però io come ho sempre detto mai i campi e su farming sono fatti per per essere non tutti i tondi sono fatti per essere perché tipo se tu vuoi assumere un operaio di quella di là vabbè che c'è sempre il course play che puoi fargli fare a loro puoi dirgli di fare tondo però i campi sono fatti per essere sto giocato qua cambi rettangolari non cioè le cose reali sono più belle altre tipo ti hanno messo questa cosa delle stagioni è meglio questa ah si devo aggiungere vabbè tanto fino a quando le pecore no perché potrei prendere anche le pecore se ci metto aspetta ci mettiamocela ora tanto i soldi ce li abbiamo mi sono perso ah non l'avevo aperta ah si avevo aperto l'altro cancello dato che ci siamo andiamoci a mettere l'erba così allora piante abbiamo due tipi di erba ah no questa è l'erba questo è il prato ci interessa il prato mettiamo il il tondo va ok ci avviciniamo perché devo metterla nel punto dove mi interessa vediamo se lo possiamo rimpicciolire un po' e là perché non me lo mette vabbè in quella zona lì non me lo vuole mettere noi lo mettiamo nella zona dove ce lo fa mettere che poi in teoria io questi ghi li lascio così vabbè questo qui no potrei lasciare sulla strada questo qui in teoria potrei anche aggiungerci l'erba però non so se cresce quello è il problema qui io sono sicuro che cresce perché c'è già l'erba fatta in quella maniera lì quindi qua sono sicuro quindi qua ci mettiamo l'erba così dopo all'inizio le pecore noi le possiamo anche prendere però possiamo fargli mangiare tanto ne prendiamo sì si sa che se ne prendete poche poi non avendo la mod quella lì degli animali che te ne fa crescere di più ne fate anche di meno perché ne fate uno per ogni animale a differenza quella mod era buona anche era comoda per quel motivo perché lì potevate fare più animali con quella mod lì dovete prendere pochi animali perché se no dopo ve ne fa una marea perché ognuno ve ne può fare ve ne può fare di più quindi vi conviene prenderne pochi però vabbè di soldi ce ne abbiamo per adesso poi possiamo fare anche qualche lavoretto per gli altri non ho rimesso la better per il momento adesso dopo la devo andare a rimettere però con la better contra che sento io che ho quella mod cioè quel file modificato della otto che si trovava nel sito della otto line devo fare poi dopo una modifica dopo e devo prima annullare tutti i contratti e poi dopo devo riaggiornarli a meno così ci risparmiamo un po' di erba che adesso poi anche gli animali dovrebbero consumare di meno perché essendo che ci mette più tempo deve passare un mese e se prendete il prestito quando mettete più giorni pagate anche di meno perché voi il prestito lo pagate per il conteggio di un anno essendo che un anno ci mette molto più tempo per arrivare voi pagate di meno ok qui rimpiccioliamo un po' no che cazzo prima qua possiamo anche ingrandire meno così facciamo un po' prima qua rimpiccioliamo un attimo questa cosa qui la potete fare quando vedete l'erbettina quella piccola se invece non c'è niente quando caricate e se c'è quella lì già cresciuta dipende perché dipende se l'ha messa già lui quella lì oppure oppure no tipo come c'era nella Don Diego prime versioni che in pratica c'era l'erba già alta ma l'aveva messa lui con Jazz Editor quindi non non funzionava il mangiare quello in automatico cioè lì non funzionava invece dopo hanno fatto l'aggiornamento che hanno messo quella che funzionava allora dopo anche lì dentro non ci metto niente perché come vedete qui dentro dalle pecore qui non avete l'erbetta qua come vedete non c'è quindi qui vuol dire che non cresce anche se ci mettete l'erba non ve la consuma quindi vi conviene tenere questa qui tanto qua di sicuro quando mettete la paglia se scaricate la paglia vi mette tutta la paglia qui poi se volete in teoria se prendete voglio prendere è l'indeciso vabbè in teoria qui c'è solo il latte di capra volevo prendere all'inizio al massimo solo le capre per vedere se mi faceva anche la lana le capre perché in teoria ci sono alcune capre che la lana la fanno non è che tutte le capre non fanno la lana casi mi rendo a fin dei conti sono delle capre non è che sono delle pecore quindi perché di sicuro le pecore non fanno latte perché è latte di capra quindi invece la paglia non è che c'è scritto come si chiama la lana non è che c'è scritto lana di di pecore o lana di capra c'è scritto lana e basta ok chiediamo il cancello lì è a posto io direi che per questo video è tutto quindi abbiamo visto se per caso qualcuno non lo sapeva ancora abbiamo visto come si riempie qua il nostro pesce affumichato sulle cassette dovete venire qui stare abbastanza vicino alla cassetta quando la prendete in mano avvicinarvi in questa zona aspetta vediamo un po' dove è il trigger che pal allora f5 ecco vedete il trigger quindi non dovete neanche stare tanto alti oppure è questo cosino qui dipende ci sono un po' di trigger vabbè uno di sicuro è quello per riempire allora un trigger è per riempire il forno potrebbe essere questo qui quando gira testo in giù forse questo qui non bisogna stare tanto alti come vedete perché avete un trigger allora avete questo trigger allora questo qui è quello per aprire il cancello sopra questo qui c'è il cancello la porta questa per aprire la porta sotto e questo qui è per far partire vedete se ci avviciniamo accendi poi ce n'è uno qua dentro ah no aspetta questi qui alti sono sempre quelli da chiudere e poi avete questo qui qua sotto che dovrebbe essere quello lì per caricare poi ce n'avete un altro la grande però come si vede è qua dentro dovrebbe essere quello la piccolo sotto quindi poi dipende forse dall'altezza in cui lo mettete ok perfetto quindi abbiamo riposto nelle nostre cassette poi dopo andremo a vendere qui le uova adesso voglio aspettare a vedere se adesso voglio vedere la questa qui abbiamo ah mi ha spostato anche l'acqua qua ora essendo che ho messo in distribuzione l'acqua mi ha spostato l'acqua di questo però adesso lì quello lì dopo che va a 100 rimarrà a 100 e non ce la sposta più perché essendo che lui non consuma perché alla fine di conti qui c'è scritto 0 e 4 lui ha dovuto metterci per forza qualche cosa perché sennò la produzione non poteva partire se tu non metti una materia che ti fa una cosa lui ha dovuto metterci l'acqua per forza tanto stando nell'acqua ci ha messo 0 perché in teoria non consumi niente però essendoci che c'era anche la capacità lui mi ha trasportato e 100 litri d'acqua me l'ha messa lì però in pratica quello rimarrà sempre così perché tanto non ne consuma di acqua tanto qui siamo pieni quasi 906 qua non è che ne consumano tante di acqua adesso più avanti voglio aggiungere le patate voglio vedere se quante cibo qui si ha modificato ah vedete le patate e le barbapietro ti danno un 045 qua perché qui c'è il cibo per i suvini ti dà tutto perché qui praticamente quello che ci metti proteine ci dà ah però aspetta qui ci va qua ci va il barbapietro da zucchero con le tritate qua invece secondo me però un pochettino più elevato questo qui poteva anche starci più che sì questo ci sta 80 anzi sì 85 secondo me questo qui almeno un 75 ci poteva pure stare vabbè che se uno fa questo più questo arriva già a 65 perché bisogna guardare due cose la produzione la salute e la produttività a noi nei maiali ci interessa la salute non la produttività perché loro producono massimo l'etame e liquame però a noi ci serve la salute perché la salute è quello che ti fa funzionare la riproduzione se tu non hai un certo punteggio a 65 forse potrebbe anche salire però se non è questo punteggio qui cioè questo qua abbastanza elevato non ti aumenta la riproduzione invece la produttività può essere anche più bassa per per salire quindi la salute va in base a questo qui a noi ci interessa questo perché i maiali alla fine dei conti si producono vittati produce un po' di l'etame un po' di quello ma si ci interessa per l'SR così dopo non dobbiamo più andare a comprare adesso piano piano compri tanto i soldi se li abbiamo piano piano compreremo tutti gli animali tanto facciamo la prova tanto noi poi il frumento lo possiamo comprare perché è quello il cibo per le galline frumento e già ce l'abbiamo già età un 0,20 patate al massimo come ho detto vado a fare prima la modifica poi al massimo vi farò pure un video perché c'è in teoria dove andate a scaricare ci sono due video di due tipi non so se uno è più nuovo uno è più vecchio però più o meno è fatto uguale l'unica differenza che hanno aggiunto con l'ultima versione dovrebbero aver aggiunto gli altri 3 SR perché adesso le SR non sono più 5 c'è gli orti non sono più 5 ma sono 8 perché ci sono questi due qui in più e più quello dell'altra farm quindi adesso ci sono 8 orti perché c'era i 5 che stanno qui nella zona orti poi c'è quello lì che sta qua vicino ai conigli e poi i due che abbiamo qua noi quindi adesso ce ne sono due in più però di sicuro con la nuova versione avrà aggiunto anche gli altri 3 da poter modificare per raggiungerci la cosa vabbè per questo video è tutto l'avevo già detto prima però stavolta è così ci vediamo per i prossimi video io mi farò la modifica poi se per caso volete vedere il video in italiano me lo dite o se no provate andare a vedere quello che hanno fatto già loro tanto vi fanno vedere dove dovete spostare tutto per questo video è tutto un saluto da Greche79 ci vediamo per i prossimi video ciao ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti